Eccoci qua cari amici di Vox Italia TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Come vi avevamo promesso da ora in avanti Vox Italia cercherà di stare sempre sul pezzo, di offrirvi un'informazione di qualità non ovattata, ogni giorno a servizio del miglioramento e della percezione dei fatti da parte di una pubblica opinione spesso manipolata dal sistema informativo mainstream. Noi sentiamo quotidianamente i protagonisti della politica nazionale e internazionale e oggi non fa eccezione questa nostra regola perché abbiamo in collegamento con noi il senatore Chele Mario Gerrusso. Buonasera senatore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie dell'invito e tanti saluti ai vostri spettatori. Bene, cominciamo con parlare dell'attualità politica, alcuni l'hanno messa nel mirino per le decisioni che lei ha preso con riferimento alla questione di Salvini e della richiesta da parte che veniva da Più Mondi di processarlo per vicende che riguardavano la gestione del Ministero dell'Interno dal tempo in cui Salvini stava al Viminale. Cosa ci dice in merito a questa vicenda? Questa vicenda contiene tutti i paradossi della vicenda del Movimento 5 Stelle e aiuta a capire anche che cosa è diventato il Movimento 5 Stelle. Bene, Salvini è imputato per il ritardo nello sbarco dei migranti clandestini che erano sopra la Open Arms. Ora, è una vicenda del tutto assolutamente identica a quella della nave Diciotti del 2019. Anzi, sotto due profili è ancora più semplice di quella della Diciotti, perché mentre la nave Diciotti era una nave, vi ricordate, una nave militare italiana, battente bandiera italiana, e per la nave Diciotti il provvedimento di blocco dei porti era stato preso in più tempi, non era collegiale. Nella questione della nave Open Arms che cosa abbiamo? Abbiamo una nave battente bandiera spagnola e soprattutto il blocco dei porti è avvenuto con un decreto interministeriale a firma di Toninelli come ministro delle infrastrutture, 30, tutte e due 5 Stelle come ministro della difesa, e Salvini come ministro degli interni. Quindi abbiamo un chiarissimo quadro di un'attività ministeriale svolta nell'ambito dell'assoluta legalità che tuttavia i magistrati pretendono di sottoporre al vaglio penale. Su questo punto, come già per la Diciotti, bisogna tornare a una legge costituzionale approvata negli anni 90. Questa legge costituzionale prevede che la valutazione dell'attività del governo o dei singoli ministri per vedere se hanno compiuto atti nell'interesse proprio o nell'interesse dello Stato è rimessa alle camere di appartenenza. In questo caso sia Salvini che Toninelli, ma comunque il senatore Salvini, sono senatori e quindi è toccato all'aggiunta per l'immunità del Senato valutare se l'attività è un'attività di governo oppure è un'attività fatta in nome proprio di cui se ne deve rispondere davanti alla magistratura penale. Quindi noi non valutiamo l'esistenza o meno di reati, ma valutiamo se quella condotta è una condotta che riguarda un'azione di governo e se questa azione di governo, come abbiamo fatto con la Diciotti, è bilanciata rispetto agli interessi che vengono sacrificati. Perché è chiaro che ci vuole un bilanciamento, non qualunque azione di governo è legittima, ma soltanto quelle azioni di governo che rientrano in un bilanciamento fra gli interessi nazionali, gli interessi dello Stato e la tutela dei diritti dei soggetti. Questo bilanciamento nel caso della nave Diciotti l'abbiamo ritenuto assolutamente sussistente perché non vi erano rischi per la salute di questi migranti e identica cosa va fatta per la nave Open Arms. Vi è di più, vi è di più. Per la legge cosiddetta del mare, la nave che batte una bandiera di un determinato paese deve portare i soggetti che soccorrono in mare presso un porto sicuro del paese di cui batte la bandiera. In questo caso la Spagna, perché la Open Arms ha una bandiera spagnola. Quindi a differenza della Diciotti che aveva la bandiera italiana, in questo caso abbiamo una nave battente bandiera spagnola. E cosa è successo? La Spagna ha messo a disposizione il porto di Algeciras e addirittura ha mandato un'area militare a Poggio per aiutare la Open Arms ad arrivare al porto di Algeciras. Tutto questo non è avvenuto perché ovviamente chi gestiva la Open Arms voleva farne un caso politico e si è diretta dritto verso i porti italiani, malgrado questi fossero stati chiusi con il proprio divento del governo. Bene, che cosa succede? Succede che nel caso della Diciotti noi abbiamo espresso una linea, io ero capogruppo in giunta per il Movimento 5 Stelle, una linea di estremo rigore sulla valutazione dell'interesse nazionale e sull'interesse all'agire del governo. Non è una questione che riguarda Matteo Salvini, riguarda il ministro degli interni e la sua capacità di difendere gli interessi del nostro paese. A noi questo interesse. Bene, in quel caso, avevamo detto, non deve andare a processo perché non è stato superato quel limite che fa diventare illegale l'azione del governo. Cosa succede stavolta? Stavolta succede che, malgrado la situazione sia addirittura più chiara di quella della Diciotti, più tipica, quindi abbiamo il coinvolgimento di tre ministri, non uno solo, del governo, perché il provvedimento di chiusura dei porti, lo ricordo di nuovo, è stato controfirmato da tre ministri, di cui due del Movimento 5 Stelle, e la nave batte bandiera spagnola e quindi si deve recare di un porto spagnolo e non italiano. cosa riconosciuta dagli stessi spagnoli che hanno messo a disposizione il porto di Algeciras, il Movimento 5 Stelle ha deciso che stavolta il ministro degli interni dell'epoca deve andare a processo. si tratta ovviamente di una posizione immotivata, immotivata, perché deve andare a processo, perché lo dicono loro, e basta, contro l'indicazione che era venuta da tutti gli attivisti che avevano votato su Rousseau, perché attenzione, il caso Diciotti e il caso della Open Arms sono assolutamente identici, si tratta di azioni di governo, concertata e legittime. Ora, siccome io personalmente ho un nome e cognome e una dignità e non sono un pupo spingibottone, a me personalmente la posizione che avevamo preso per la Diciotti mi convinceva e la ritenevo fondata e l'ho sostenuta in aula e adesso ho votato di conseguenza, ma in coerenza con quanto stabilito dagli attivisti con un voto, lo ripeto su Rousseau, per giunta in linea con il nostro programma che prevedeva l'abbattimento dell'immigrazione illegale. Guardate il programma del Movimento 5 Stelle del 2018, su cui 11 milioni di persone ci hanno dato il voto. Questo era il nostro programma e io mi sono ottenuto a questo. Adesso si dice che io e addirittura anche la mia collega del Movimento 5 Stelle siamo stati incoerenti, traditori, tutti i loro esseri. A me sembra che incoerenti e traditori rispetto al programma sono stati i miei colleghi che hanno obbedito agli ordini di scuveria come se fosse un partito come tutti quanti gli altri che decidono in braccio alle convenibili se non in batte a quel che è giusto e va fatto. Questa è la più attrazione da Riccotti. Voi sapete bene che è un movimento politico che rinnega il proprio programma, che rinnega le indicazioni date dal proprio... Sì, 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 tutto chiaro. Rispetto a questo, senatore, è molto interessante questa chiosa che lei fa del suo primo passaggio. Cioè lei dice che il Movimento 5 Stelle, di cui lei è stato uno degli esponenti più importanti fino a poco tempo fa, ha completamente rinnegato il proprio programma, la propria missione, la propria ragione. Sono nel Movimento dal 2006, quando ancora non si chiamava nemmeno Movimento 5 Stelle, eravamo gli amici di Beppe Grillo, i Gritti dell'Ettera. Attenzione, non so l'ultimo paracavutato o il miracolato, l'ultimo scelto di parte della partiera. È difficile per chiunque dipingerla come uno degli ultimi arrivati, lei è uno che ha vissuto la genesi, la nascita, la crescita di questo fenomeno che poi è arrivato ad essere il primo partito italiano. Adesso lei dice, anche con un pizzico di amarezza, dice io non riesco a capire come hanno potuto tradire completamente il DNA del Movimento che io ho visto nascere fin dalla culla. Se volessimo avanzare delle ipotesi, senza avere certezze, lei che spiegazione darebbe? Cosa è potuto accadere? Si sono, come dire, inebriati di potere? Sono stati avvicinati, sono ricattati, cioè che cosa è successo? Guardi, anche la vicenda terribile Bonafede e Di Matteo è indicativa di ciò che è successo nel Movimento. Una cosa gravissima, Di Matteo era una bandiera del Movimento. Nella scorsa legislatura tutti i senatori del Movimento 5 Stelle avevano firmato un appello per Di Matteo, lo abbiamo sempre sostenuto, in campagna elettorale nel 2018, l'abbiamo indicato come un importante esponente che sarebbe andato al governo del Paese. Quindi abbiamo mentito agli italiani, purtroppo mi ci metto pure io, sono stato ingannato pure io e ho detto queste cose, facendogli intendere che una volta arrivati al governo del Paese Di Matteo avrebbe avuto un importante incarico, non per Di Matteo, ma per le capacità che ha manifestato Di Matteo nella lotta alla mafia e soprattutto per un elemento non da poco. Di Matteo col processo trattativa, e noi siamo stati gli unici ad avere sostenuto il processo trattativa mentre gli altri lo direggiavano, insultavano, dicevano che era una follia, mentre ha avuto un'importantissima sentenza di condanna ancorché in primo grado. Bene, il processo trattativa rappresenta la prima volta nel nostro ordinamento in cui lo Stato è riuscito a processare se stesso. E' questo l'elemento dirompente che rappresenta Di Matteo, cioè rappresenta il tentativo riuscito dello Stato di processarsi e di condannarsi quando tradisce la missione che gli è stata data, perché chi ha trattato con la mafia ha tradito il nostro Stato, ha tradito 60 milioni di cittadini e va condannato e le cannane erano mica da ridere, 12 anni di carcere a Mori, un generale i carabinieri, non è che stiamo scherzando. Quindi che cosa succede? Appena Bonafere e gli altri mettono il sedere sulle poltrone ministeriali avviene la trasformazione del movimento in un movimento assolutamente conservatore dello Stato scuola. Quindi Di Matteo per carità potrebbe disturbare gli interessi e gli equilibri, quindi incominciano gli equilibrismi, bisogna avere la giacca sempre inappuntabile, la cravatta col nodo fatto bene, non bisogna dire una parola di troppo, non parliamo di una parolaccia o un insulto. Di Matteo è un insulto a tutti i traitori che sono dentro lo Stato, metterlo al DAP perché ricordiamo la trattativa Stato mafia del 92 passa dritto per le carceri, attenzione perché le bombe del 93 e del 92 sono bombe che sono state messe per coprire una trattativa che puntava ad un alleggerimento della situazione carceraria dei detenuti per mafia. Quindi mettere Di Matteo al DAP voleva dire consentire da un lato ulteriori investigazioni perché non ci dobbiamo dimenticare che dal DAP dipende un corpo di polizia specializzato che è la polizia penitenziaria che all'interno ha un nucleo ancora più specializzato, il GOM, che indaga nelle carceri. Quindi da un lato avrebbe potuto continuare il lavoro sulla trattativa dal DAP, dall'altro avrebbe sicuramente, sicuramente bloccato qualunque tentativo di ulteriore trattativa fa lo Stato la mafia. Qualcuno non lo ha voluto e ha fatto di peggio. Ha messo, Bonafede, scientemente ha messo, si è circondato di un'intera banda di sodali di Palamara. Banda che mette i brividi perché il dottor Basentini, che è stato nominato al DAP senza avere nessuna esperienza, se non una discutibilissima gestione di un pentito che era parente di sua moglie, addirittura portavano lo stesso cognome con la moglie. Quindi lui gestisce un pentito che porta lo stesso cognome di sua moglie ed è parente di sua moglie. Quindi immaginiamo. Il dottor Basentini che come importante esperienza ha un disastro epocale che è l'indagine sull'ENI, quello di Tempa Rossa. Perché dico disastro? Perché si arriva a far dimettere il ministro Guidi con l'indagine di Tempa Rossa e poi che cosa succede è l'indagine sull'ENI viene archiviata, non vengono assolti, che l'avvocato ci sta nel gioco delle parti, la difesa e l'accusa, in tribunale. Si vince, si perde. Se uno non è bravo a dimostrare i fatti o se gli avvocati sono bravi a dimostrare l'innocenza dei loro clienti è evidente che si può perdere e ci sta una soluzione. No, no. Qua non si è arrivati al dibattimento. Qua la stessa procura che ha fatto un disastro facendo dimettere persino un ministro a un certo punto ha detto non c'è nulla, prendo ed archivio. Ora voi vi rendete conto che un soggetto che ha gestito questa indagine sull'ENI e poi viene nominato al DAP viene premiato, lascia sorgere dei sospetti gravissimi su come si è arrivato al DAP, su cosa è il DAP per questa persona, che è un cambio di status non indifferente. Considerate che passa da uno stipendio di 80-90.000 euro l'anno, passa da uno stipendio di 320.000 euro l'anno che manterrà a vita, sarà pensionabile. A me sembra un premio. Io sto presentando una interrogazione per capire che cosa vuol dire archivio un'inchiesta per l'ENI e come premio mi danno il DAP? È legittimo sospettare che dietro ci sia un do o tut o d'esse? Noi non lo sappiamo, io mi auguro che non sia così, mi auguro che non sia così, però è strana questa nomina di questo soggetto. Bene, a proposito di questo, scusi se l'interrumpito. Senatore, prego, prego. Nelle settimane scorse sospetto che vi sia stata una trattativa Stato-mafia di nuovo e di nuovo partendo dalle carceri, perché c'è stata una vera e propria insurrezione coordinata dentro le carceri che si sono rivoltate, queste carceri, i detenuti hanno fatto una rivolta incontemporanea in decine di istituti di pena. Come si fa a coordinarsi fra gente ristretta in carcere in decine di istituti di pena? È chiaro, questo lo fa la criminalità organizzata, ma non basta la rivolta. Ci sono stati tredici morti, una cosa incredibile, danni per decine, trenta o quaranta milioni di euro di danni alle strutture, settanta detenuti evasi e la risposta di Basentini e dello Stato qual è stata? Non la fermezza che bisognava dimostrare contro la criminalità organizzata, ma sono state 8 mila scarcerazioni di cui 500 mafiosi. Ora, questo legittima i cittadini a pensare che qualcuno sia andato nelle carceri e anche qua sto presentando un'interrogazione per sapere che cosa ci faceva Basentini da Zagaria prima della scarcerazione di Zagaria. Era andato a trovarlo in carcere e non c'è andato da solo, ci è andato accompagnato da un'altra persona che non era del GOM, non era della polizia penitenziaria. E chi era quest'altra persona che lo accompagnava da Zagaria? E perché è andato da Zagaria? C'è stata una trattativa, qualcuno ha detto ai mafiosi, va bene, che cosa volete per finirla con le rivolte nelle carceri? Volete la scarcerazione? Ve la diamo. Ed è uscita la famigerata circolare numero 21, circolare che viene firmata di sabato al Ministero della Giustizia. Voi pensate, se qualcuno va di sabato al Ministero della Giustizia, stendo, trova l'uscere, non qualcuno che lavora. Invece là febbrilmente lavoravano per tradire lo Stato, mettono in piedi questa circolare e da questa circolare ne vengono fuori delle cose orripilanti. I mafiosi sono stati scarcerati nemmeno su propria domanda, ma su domanda dei direttori delle carceri. Ci sono 62 mafiosi che sono stati scarcerati o che hanno rischiato di essere scarcerati non su domanda propria dei propri avvocati, ma su domanda della stessa direzione delle carceri. Vi faccio un solo nome che per me, che sono catanese siciliano, è gravissimo. Stiamo parlando di Nitto Santa Paola, il numero due di Cosa Nostra siciliana, che il direttore del carcere, dove era detenuto, ha fatto domanda al giudice di sorveglianza per farlo uscire perché? Perché ha il diabete? Perché ha il diabete? Liberiamo il numero due di Cosa Nostra dalla stragista mafiosa di Cosa Nostra? Ma siamo impazziti e qualcuno non vede che si è tracchiggiato sotto il proprio naso? Perché questo è successo. Qualcuno ha trattato, è andato nelle carceri a chiedere che cosa volete. Ecco, accondentati. Questo scenario che lei dipinge in maniera anche molto puntuale, molto precisa, con dei riferimenti molto specifici, è davvero ripilante. Cioè, noi siamo di fronte ad una possibile prosecuzione della famosa trattativa che è stata, che ha portato poi alle sentenze di condanna che lei prima ricordava, processo istruito da Antonio Ingroi e portato avanti anche da Nino Di Matteo. Noi saremmo di fronte ad uno scenario simile con buona fede nel ruolo di quello che, nella migliore delle ipotesi, il senatore non vede, non sente, non capisce. Ma doveva arrivare proprio il Movimento 5 Stelle che era accusato di essere un movimento ipergiustizialista per mettere in piedi, diciamo, un'atmosfera di questo tipo? Siamo su scherzi a parte. Guardi, io personalmente sono stato molte volte tacciato di essere giustizialista, ma le posso dire che ci sono quelli veri giustizialisti e quelli soltanto per finta, per comparsa, soltanto per fare le comparsate in televisione, che hanno paura di fare anche il nome dell'ultimo mafioso. Per attaccare i mafiosi in Toscana negli anni scorsi i consiglieri regionali del Movimento, i consiglieri comunali del Movimento non chiamavano buona fede, chiamavano me. È che sono andato a Viareggio a indicare due affiliati alle cosche dei Cursoti catanesi che avevano una concessione nel porto di Viareggio. Ci sono dovuto andare io con Anna Maria Pacilio, nostra consigliera comunale, a difenderla e ad attaccare per fargli revocare la concessione. E allora noi di che cosa parliamo? Parliamo di gente che ha fatto una sceneggiata, ha fatto una sceneggiata, gente senza sostanza, senza spina dorsale. Non è in mala fede, è peggio, è peggio, è pericolosamente incapace. Perché vede? Una persona collusa non le avrebbe fatte le cose che ha fatto buona fede. Perché i collusi sono intelligenti, si spaventano delle conseguenze delle loro azioni, temono di essere scoperti. La persona poco arguta, incapace, non si rende conto di quello che fa e fa cose gravissime, fa cose gravissime senza rendersene conto. E questo è accaduto. Perché a buona fede il Movimento 5 Stelle, i membri della commissione antimafia del Movimento 5 Stelle, di cui ero capogruppo, e i membri di commissione giustizia lo avvisarono subito alla prima scarcerazione, chiedendogli di intervenire. E la risposta è stata fate un'interrogazione, non possiamo intervenire, c'è l'autonomia della magistratura, sono i magistrati di sorveglianza, sì che sono impazziti. Quelli hanno ricevuto una direttiva dal ministero e hanno capito che bisognava liberarli perché bisognava alleggerire la situazione nelle carceri, no? Dopo la rivolta, è chiaro. Senta, senatore. Quando è intervenuto buona fede dopo 500 scarcerazioni, ci sono avuti 500 scarcerazioni, ma nemmeno mille scarcerazioni bastavano. Buona fede è intervenuto quando ha visto a risco la sua poltrona e allora ha sacrificato quattro della banda Palamara buttandoli giù dal castello, come si suol dire, mandandoli a casa, fra cui Basentini, e ha fatto tre interventi per decreti, non uno, tre per cercare di chiudere le porte quando ormai i buoi erano scappati. Ma non ci volevano 500 scarcerazioni per intervenire. Una persona seria dava retta ai suoi della commissione antimafia, dava retta a Nicola Morra, dava retta alla cui i membri di commissione di giustizia interveniva. Subito. Senta, senatore. Un altro aspetto che è emerso nei giorni scorsi e che è stato portato all'attenzione mediatica da PM come De Magistris e di Ingroia, che non sono accusabili di essere di sicuro amici di Berlusconi o del centrodestra italiano, è quello che riguarda proprio i rapporti politici fra alcune TOG e alcune forze politiche. Loro hanno detto che è impossibile per alcuni magistrati indagare su un certo sistema di potere quando abbiamo messo nel mirino napolitano tutti questi uomini, alcuni di questi del contorno che lei ha sintetizzato con l'immagine della banda Palamara, ci hanno aggrediti. Questo sistema continua a prosperare anche col Movimento 5 Stelle in via Renula. Assolutamente sì. La banda che aveva cacciato De Magistris dalla procura di Catanzaro, l'aveva cacciato via per le sue indagini che erano arrivate al cuore del potere massomafioso colluso nel quale la sinistra, pseudosinistra e la destra si trovano allo stesso tavolo con la mafia e questi tavoli sono dentro le logge massoniche. Bene, questo gruppo di potere di Palamara era in via Renula nominato da Bonafede perché Basentini era uno di quelli che aveva subito quando era a potenza la perquisizione di De Magistris e che cosa aveva fatto? Lo aveva denunciato a De Magistris, ma c'era un altro che si sono tirati dentro dalla banda Palamara, mi pare che si chiamasse Romano ed è proprio quello a cui ufficio risale la circolare 21 che era sotto Basentini, sotto Basentini, che è ancora più coinvolto, ma le dirò di più. A me non piace nemmeno la nomina di Petralia, non mi piace per niente e vuole sapere perché? Perché Petralia era nella commissione che si occupava dei procedimenti disciplinari del CSM quando il CSM era sotto il pieno controllo di Palamara e compagni e che cosa ha fatto? Ha votato Petralia per cacciare De Magistris, quindi noi sostituiamo un gruppo che è espressione della banda Palamara e gli mettiamo un altro, un altro Petralia che comunque è stato all'epoca coinvolto in quei disastri, perché poi ve lo ricordate, un gruppo di magistrati di Salerno competente a indagare su quello che era successo a Potenza, dove De Magistris aveva fatto le perquisizioni, dette ragione a De Magistris che cosa successe a questi tre poveri magistrati. Uno è stato fatto morire di capacuore perché è stato cacciato dalla magistratura, un altro è stato mandato in pensione, il terzo trasferito da quel CSM dove nella commissione che ha fatto questo scempio sedeva Petralia e allora noi dobbiamo domandare ma il sistema perso Basentini ne ha acquistato un altro? Senta senatore, era Catanzaro la procura, non Potenza, forse nello scontro delle procure. Io mi chiedo una cosa, io mi ricordo di voi, cioè di voi, non più di lei perché lei non è più nel Movimento 5 Stelle, mi ricordo del Movimento 5 Stelle quando chiese l'impeachment per Giorgio Napolitano. Adesso da quello che viene fuori, tutti quegli uomini che all'epoca De Magistris ha puntato chiaramente il dito contro Napolitano e Mancino, tra l'altro protagonisti di alcune intercettazioni che sono state poi distrutte, diciamo una procedura che non ha molti uguali nella storia della nostra giustizia, che sono state poi distrutte, però ha puntato il dito proprio contro loro due. Ora sembra quasi che quel sistema che si era mosso allora per depotenziare lui e anche l'inchiesta di Antonio Ingroia abbia trovato proprio in buona fede nel Movimento 5 Stelle l'ultimo degli alleati politici, tra virgolette. Recitavano prima o è successo qualcosa nel frattempo? Guardi, qua rientriamo di nuovo in quella discussione di prima. Quando uno è arrogante, incompetente e perfetto per essere manovrato. Io non credo che buona fede si sia accordato con la banda di Palamara o con quelli attorno a Napolitano. Anzi, vi ricordo che io nella scorsa registratura facevo parte del Comitato per la Messa di Stato d'accusa del Presidente e per il Movimento 5 Stelle ho sostenuto in quel comitato l'atto di accusa a Napolitano. Vi vorrei ricordare. Quindi conosco bene quelle vicende e so quanto è pericoloso Napolitano. Bene, io credo che dietro la mancata nominal DAP di Matteo vi sia quell'ambito che gravitava attorno a Napolitano. Che dobbiamo ricordarlo è una parte, diciamo, del cuore del potere Piddino. Ma è un potere Piddino che va d'accordo con Berlusconi, va d'accordo con tutti. Sono quelli che facevano la parte di alternarsi. Una volta governava il centro-destra, una volta governava il centro-sinistra, ma in realtà erano entrambi d'accordo. Bene, quel potere ha trovato gioco facile in una persona sproveduta, disinformata, che ha fatto solo finta di essere il Ministro della Giustizia. Ma non se ne è reso conto. Gli altri governavano il Ministero al posto suo, ma lui non se ne rendeva conto Bonafede. Diciamo che forse Bonafede non ha il profilo di un uomo molto arguto, capace di cogliere tutte le sfumature, ma forse per inesperienza. Sicuramente con il tempo migliorerà. Per ora magari è rimasto un po' incastrato dentro queste dinamiche. Le volevo chiedere un'altra cosa, senatore. Un secondo solo che le voglio fare. A cui ho assistito di persona su Bonafede per capire che non è inesperienza, ma è mancanza di spina dorsale. Una delle persone coinvolte nelle intercettazioni che sono uscite fra Palamara e altri. Una persona che ha di fiducia di Palamara siede ancora al DAG, che è il Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria, uno dei vertici del Ministero della Giustizia. Bene, questo magistrato sedeva con noi in un tavolo e noi si intende il Ministro, due sottosegretari e i capigruppo di tutta la maggioranza. Io addirittura avevo anche un mio consulente ed ero in quel tavolo come relatore su un testo importantissimo, quello che fu definito il testo che dette vita alla guerra di Trojan. Perché? Perché ci fu il tentativo da parte del PD e di Italia Viva e anche di Forza Italia di affossare l'uso dei Trojan. Ora, per contenere quell'attacco, fui nominato io come relatore e facemmo una lunghissima riunione, alla fine ne facemmo tante, ma una che iniziò al Ministero alle 4 del pomeriggio e finì alle 2 di notte. era di importanza straordinaria perché se fosse riuscito l'attacco ai Trojan sarebbero caduti la maggior parte dei più importanti processi perché sarebbero state dichiarate illegittime le intercettazioni ottenute con i Trojan e usate nei processi come prove. Bene, in questa lunga riunione sedeva anche questa dottoressa del DAG e altri capo di gabinetto, insomma c'era un po' di staff del Ministro. Arrivate alle 8 di sera, questa signora, dirigente del DAG, davanti a tutti, a voce chiara in modo che si potesse sentire forte e chiaro, dice sono le 8 guardando l'orologio, io ho una vita e me ne devo andare. Si alza e se ne va davanti al suo Ministro, ai sottosegretari e a tutta la maggioranza, lasciandoci tutti a bocca aperta. Qualunque Ministro, qualunque Ministro con un minimo di spina dorsale avrebbe detto a questa dottoressa, dottoressa lei vada pure, però passi dal suo ufficio, si raccolga le carte e non torni più per favore. Ecco, quindi lei, una persona che fa fatica a gestire i suoi dipendenti, figuriamoci come riesce a trattare con i vertici, se là la stragista dice, come riesce a contenere più che a trattare, cioè trattare ha avuto lei il dubbio che stia ancora trattando, però come può contenere la furia, la capacità di intimidazione di gruppi che hanno un potere di persuasione sicuramente un po' superiore rispetto a quelli dei dipendenti di Via Reno. Ecco, questo di sicuro non ci fa stare tranquilli questo racconto che lei ci ha fatto. Le volevo chiedere un'altra cosa che ora riguarda più la vicenda politica. Lei prima ha detto che di fatto il PD resta ancorato ai voleri di Napolitano, è un presidio di quel potere lì e Napolitano continua a rappresentare il punto di riferimento di quell'aria. Come ci siete finiti alleati? Visto che lei non c'è più. Guardi, devo dire per la verità che in quella terribile estate dello scorso anno, in quell'agosto in cui Salvini si suicidò con le dimissioni in pieno agosto. C'era poco a che fare. La nostra era e è una, fortunatamente, una democrazia parlamentare. Quindi bisogna trovare i voti per governare in Parlamento. Caduto l'alleanza con la Lega? Non restava altro che il terzo partito, il primo movimento politico, siamo noi, eravamo noi, col 33%. Poi veniva la Lega e poi veniva il PD. O ci alleavamo con la Lega o ci alleavamo con il PD. Non c'era altro modo per fare un governo. Peraltro andare così di schianto al voto avrebbe rischiato di consegnare il Paese a una maggioranza del 51% tutta del centro-destra e tutta quanta di Salvini. Ora, io in democrazia credo molto alla rappresentatività e al parlamentarismo perché sopisce le crisi e le tentazioni violente in modo che tutti siano rappresentati dentro il Parlamento e abbiano voce e diritto di tribuna. Pensare a un Parlamento con un governo monocolore, di qualunque genere esso sia, mi metteva i brividi. quindi ho pensato, dico, siamo riusciti a gestire, diciamo, con alti e bassi il governo con la Lega, sicuramente saremo riusciti a gestire il governo col PD. Quindi devo dire che ero favorevole. Sono stato favorevole fino a un momento preciso. Quando ho visto la lista dei ministri, mi sono cascate le braccia. Praticamente la incapacità di chi governava il movimento è stata tale da farsi mettere in minoranza dal PD nel Consiglio dei Ministri. Avevamo meno ministri di quelli che avevamo con la Lega, che aveva più voti del PD. Una cosa impressionante. Cioè, pur di restare attaccati alla poltrona, hanno detto sì a qualunque cosa. A qualunque cosa. Questo è stata una cosa molto, molto grave. Da là, diciamo, sono iniziati i dissapori forti con il gruppo dirigente che ovviamente hanno portato alla mia esclusione dal movimento. Io non ho mancato mai una volta di far risaltare come quell'alleanza a cui, ripeto, anche io ero stato favorevole, ma non immaginavo che sarebbe stato un patto di odino per divorare il Movimento 5 Sterle, per prostituirlo, per far diventare spadafora ministro, cacciando l'Alezzi, Toninelli, la Grillo, mettendo speranza al Ministero della Salute. Cioè, veramente... Hanno esagerato. Hanno esagerato, ecco, diciamo così. Una è questa. Senta, le faccio le ultime due domande e poi la lascio andare, visto che lei, diciamo, ci ha offerto uno spaccato davvero, davvero interessante. Una riguarda, torniamo alla vicenda di Di Matteo, che lei ha più volte citato nel corso di queste interviste, ha detto Di Matteo al DAP faceva paura. Ma forse Di Matteo faceva paura anche dentro, diciamo, il gruppo che indaga sulle stragi del 92-93, visto che è stato poi, insomma, destituito improvvisamente con una motivazione, non fortissima, insomma, come se avesse dovuto pagare un eccesso di esternazioni mediatiche. Che idea si è fatto anche di quell'allontanamento di Di Matteo? Quell'allontanamento fu un atto assolutamente sconvolgente. Io avevo stima del dottore De Rao e sono rimasto veramente colpito dalla sua decisione. Credo che sia caduto in una trappola e abbia veramente combinato un, non so come definirlo, un guaio, veramente un guaio. La Procura Nazionale Antimafia, peraltro le dico un'altra cosa, secondo me è proprio da rivedere come istituzione. Che cosa le volevo dire? Che come membri della Commissione Antimafia, al momento della nascita del secondo governo Conte, avevamo predisposto tre paginette di programma possibile per la lotta alla mafia. Di quelle tre paginette non vi è completamente traccia nello pseudoprogramma del Conte 2. Ma non solo. Di quelle tre paginette non abbiamo avuto nessun riscontro da parte del Ministro Bonafede. Neanche per dire avete scritto delle scempiaggini, delle cose infondate, cose che non... Niente, zero. Prese e gettate nel cestino, come se non le avessimo presentate. Stiamo parlando, ripeto, di una proposta di programma che non avevo elaborato io, ma avevamo elaborato tutti i membri, compreso Nicola Morra, del Movimento 5 Stelle che facevano parte della Commissione Antimafia, in ore di sedute, con alcuni componenti anche delle Commissioni di Giustizia, di cui faccio parte io, che ovviamente hanno una sensibilità antimafia. Bene, di quel programma non vi è alcuna traccia. Non vi è traccia. E questo è uno dei grandi problemi. Perché il Movimento 5 Stelle non ha un programma, un progetto per contrastare la mafia. E non lo vuole avere, perché non l'ha mai chiesto alle persone competenti, preparate. Non sto parlando di me. Ripeto, lo stesso Di Matteo e altri sarebbero stati ben felici, gratteri, lo dice sempre, ha mandato delle proposte e sono state completamente disattese. Nessuno le ha nemmeno valutate. Bene, c'era chi aveva riposto speranza nel Movimento 5 Stelle, vedeva nel Movimento 5 Stelle la possibilità di combattere la mafia, mentre altri avevano visto nel Movimento 5 Stelle la possibilità di sedere in una poltrona ministeriale alla faccia di 11 milioni italiani e a qualunque costo. Tutto chiaro. Senta, senatore, chiudiamo con una indagine sulla situazione politica attuale, su quelli che possono essere gli scenari del prossimo futuro. Noi mai avremmo immaginato di vedere Renzi insieme al Movimento 5 Stelle, insomma abbiamo visto anche questo, con Renzi che si è preso la briga di salvare il ministro Bonafede dopo averlo pesantemente umiliato. Ma secondo lei il governo Conte è nelle mani di Matteo Renzi? Non credo, ma è sotto il ricatto, è sotto il ricatto di Matteo Renzi. Matteo Renzi hanno capito tutti, agisce così, ricatta il governo e chiede, chiede, chiede. E quelli pur di restare sulla poltrona danno, danno, danno. A danno di tutti. Senta, un'ultima cosa. Matteo Renzi era capo del governo quando in Italia scoppiava il cosiddetto Russiagate. L'inchiesta del procuratore Durham insieme al ministro della giustizia americano Barre sembra che abbiano individuato proprio in Italia uno dei centri di questo presunto complotto, di questo intrigo. All'epoca responsabile per i servizi segreti era Marco Minniti, poi diventato ministro dell'interno. Lei che idea ha di questa storia? È un blef? È una cosa seria? Io credo che sia una brutta, bruttissima storia che avrà entro pochi mesi delle conseguenze anche sulla politica italiana molto importanti. Perché non si gioca impunemente con queste cose. Qualcuno aveva puntato sui Clinton ed è stato sconfitto e gli americani su questo sono abbastanza spietati con gli sconfitti e fanno bene, visto il tenore degli sconfitti. Stasera, a proposito cari amici di Vox Italia TV, sentiremo in esclusiva il consulente di Donald Trump, Giorgio Lombardi, che magari ci darà qualche aggiornamento sul dibattito americano. Io chiudo con il senatore Gianrusso chiedendo a lui cosa intende fare, visto che ha maturato questa esperienza, ha questa passione politica, ha messo parte della sua vita al servizio del Movimento 5 Stelle. Alcuni, i suoi detattori, la dipingono già come un leghista. Cosa vede nel suo futuro politico, senatore? Guardi, io non ho mai lavorato per il mio futuro politico. Io ho lavorato per il futuro del mio Paese e lo faccio da quando avevo 14 anni, da quando militavo nel Movimento Antimafia, non mi ero mai riconosciuto in nessun partito perché ne conoscevo benissimo i limiti e i difetti, soprattutto nella lotta alla mafia, i cedimenti e la lotta alla mafia. Avevo creduto tanto nel Movimento 5 Stelle, ho investito dieci anni alla mia vita e mi sento profondamente tradito dalle persone che se ne sono impossessati. Si sono impossessati delle speranze di 11 milioni di cittadini, delle speranze si sono impossessati, hanno fatto mercimonio delle speranze del cuore che ci avevano messo decine di migliaia di attivisti che sono smarriti nel vedere queste cose. Francamente, vedere una difesa indifendibile come quella di Buonafede fa cascare le braccia. Difendere indifendibile. Tutti attorno a Buonafede cadono come Birilli, le persone che lui ha nominato e lui non è responsabile? E che passava per cazzo da Via Renola? No, io non guardo il mio futuro politico, io non ho futuro politico. Io spero che abbia un futuro il mio Paese, che è un'altra cosa e per quello cercherò di lavorare. Grazie Senatore, è stato per noi un piacere averla in esclusivo su Vox Italia TV. Speriamo di risentirla presto, così aggiorneremo i nostri spettatori su quelle che sono le dinamiche che coinvolgono la politica italiana e perché no anche quella internazionale. Grazie ancora. Grazie a voi. Bene, cari amici, anche oggi abbiamo concluso una bella intervista, di sicuro molto forte, molto precisa, non filtrata come in genere si vede nei grandi media mainstream. Noi siamo davvero una TV libera e ci possiamo permettere di dire le cose che pensiamo, di ascoltare le persone che vogliamo ascoltare senza porre dei limiti al libero dibattito, alla manifestazione del libero pensiero. Tutti a parole dicono di amare, di difendere il libero pensiero, però poi in realtà viviamo dentro un contesto informativo che è super controllato, dove anche le virgone vengono cassate, vengono cancellate se non piacciono ai padroni del vapore. La nostra è quindi un'oasi di libertà vera, praticata e non solo enunciata, ma può vivere soltanto se lo volete voi. Voi siete gli unici nostri editori, noi potremo andare avanti soltanto grazie al vostro sostegno e al vostro aiuto anche economico. Stiamo cercando di migliorare, in tanti mi state lamentando per l'audio, me ne rendo conto, l'audio migliorerà velocemente, dateci il tempo di migliorare la struttura tecnica, in poco tempo vedrete che tutti questi piccoli problemi tecnici che noi stiamo cercando adesso, con passione, con impegno di superare, diventeranno soltanto un ricordo. Sosteneteci donando ai numeri che vedete lì in sovrimpressione, noi abbiamo bisogno del sostegno dei cittadini per continuare a difenderne le istanze e portare la voce di chi non ha voce lì dove oggi purtroppo non arriva. Alla prossima. Grazie.